Fresco, tranquillità e buon cibo sono gli ingredienti maggiormente ricercati dai turisti che si recano a Visso, paesino incastonato nei Monti Sibillini, nell'entroterra maceratese. Il borgo duramente colpito dal sisma del 2016 è fra le mete preferite anche degli stessi marchigiani, che in questi caldi giorni estivi qui si recano per fare delle passeggiate fra le montagne e assaggiare le specialità del posto fra le quali spicca il ciauscolo. Veniamo a Reganati, andiamo a Visso perché ci veniamo spesso, un po' più fresco delle parti nostre, c'è il mare a 11 km, sempre mare, sempre mare, ogni tanto qualche volta a montagna. Noi veniamo da Roma, oggi abbiamo deciso di lasciare il caldo della città e venire qui per passare una giornata diversa, è il paese di mio papà dove è cresciuto. Noi veniamo da Roma, però mia nonna era di Villa Sant'Antonio, che è a un chilometro da Visso, una frazione, e abbiamo casa lì, terremotata. Noi siamo di Camerino, abbiamo scelto di venire a pranzare qui a Visso, soprattutto per vedere come va i nostri vicini di casa, come continuano a vivere in queste circostanze, che ancora il terremoto ha fatto tanto tanto male. Accanto alle sempre presenti bici e moto, a Visso giungono anche turisti con mezzi molto particolari. Di passaggio in queste ore due amici in sella, i loro asini. Facciamo sempre questo cammino, facciamo l'anello, però passiamo, serviamo, facciamo l'anello dei Sibillini, sui 150 km, in più tappe. Gli asini ci portano i viveri, le dende, i sacchi a peluto, quando praticamente ci tolgono un po' di fatica, diciamo. Molti arrivano in paese già attrezzati per fare i suggestivi sentieri di montagna, una piccola sosta in paese e poi via con l'arrampicata. Trekking, sentieri di montagna, sentieri storici, sentieri del parco, tutti segnalati, e quindi c'è la possibilità di fare passeggiati un po' per tutti i gusti a Visso e nei territori circostanti.